Tocca a te il primo tuffo, ti puoi preparare, puoi levarti le cuffie e metti in posizione e al via, ti seguiamo da qui. Come è andato Cecilia? Un grande tuffo. Lui è bravo, sa notare molto bene, sono l'unica in famiglia che non avrebbe mai fatto questo lancio, poi gli altri sono tutti molto coraggiosi. Allora, a Gustavo già si è levato le cuffie, pronto per il lancio? Non so se mi sente, però Gustavo, noi ti seguiamo e siamo pronti a vedere il tuo primo tuffo del membro Rodríguez. Il membro della famiglia Rodríguez. Che figo! Così, papà proprio... Lui è carichissimo, lui è partito dicendo vado in vacanza. Temerario. Vediamo che vacanza si farà perché... Ah, lui è andato in vacanza? Lui ha detto che va in vacanza, quindi è carichissimo.